Gunther non vedeva l'ora di affrontare questa sfida. Finalmente non si sentiva più escluso. Ero stato io a chiedere di invitare mio fratello su consiglio di mio padre. Erling Koffer, il capo della spedizione, aveva il monopolio dell'impresa perché aveva i contatti in Pakistan. Alla fine cedette e chiamò anche mio fratello. Poco prima della partenza della spedizione ho rinunciato. Così al mio posto chiamarono Gunther. Fu una decisione spontanea, anche se la presi all'ultimo momento. E di questo poi mi sono sentito in colpa. Gunther si unì alla spedizione come mio sostituto che non è l'ideale in casi del genere. C'erano molte aspettative su quella spedizione perché i migliori alpinisti tedeschi del tempo avevano tentato e avevano fallito. Ora era il nostro turno. Eravamo una squadra molto più giovane ma abbastanza ambiziosa da pensare di farcela dove loro non erano riusciti. Conoscevamo tutti le gesta di Bull sul Nanga Parbat. Sapevamo che la Rupal era una parete considerata impossibile ma tra l'ascesa di Bull e la nostra erano passati 17 anni. Eravamo in una nuova era, l'alpinismo delle grandi pareti e la Rupal era la sfida più grande del Nanga Parbat. Nell'ambiente alpinistico tedesco questa montagna era molto più ambita degli altri 8.000. Avendo la parete più alta del mondo era ai nostri occhi l'obiettivo per eccellenza. Ero attratto da imprese che avessero qualcosa di particolare. Se mi avessero invitato a unirmi a una spedizione sulla via normale dell'Everest avrei rifiutato. Non mi piace arrancare nella neve. L'obiettivo di quella spedizione era essenzialmente portare in cima chiunque ce la facesse. Per certi versi era assolutamente tradizionale. Wir geloben in dem Ringen um einen der höchsten Gipfel unserer Erde ehrenhafte Kämpfer zu sein zur Ehre unseres Vaterlandes Un capospedizione con arie da generale ma con relativamente poche conoscenze alpinistiche e una squadra variegata e raffazzonata. Erling Coffer era riuscito a separare tutte le cordate più affiatate. Haim e Cohen, Saler e Scholz per esempio ma non noi. Gli dissi semplicemente io e mio fratello o veniamo insieme o non veniamo. Nanga Parbat Nanga Parbat qualche volta si era parlato della possibilità di aprire una scuola di alpinismo o un'altra attività professionale del genere ma non ne avevamo mai discusso bene prima. Sul Nanga Parbat tutto ci sembrò possibile. Stavamo conoscendo tanti alpinisti famosi che erano con noi nella spedizione e che l'avevano fatto. Noi eravamo ancora giovani ma ci parve subito di essere in grado di fare tutto ciò che facevano loro. soprattutto eravamo capaci quanto loro di interagire con la natura maestosa. Per Teleport erfahren wir che i fratelli Messner e Gerd Bauer ancora oggi al Lager 5 sceglieremo in grado di återo da noi e in fratelli a mezzo in quali vuoi informi che erano oltre a tutti i giorni 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 le informazioni erano chiare il tempo peggiorava i razzi rossi parlavano chiaro suggerì di comunicare al campo base che se il meteo peggiorava sarei salito da solo esclusi mio fratello potevo assumermi la responsabilità solo per me avrei agito più rapidamente da solo e mi sentivo in grado di scalare gli ultimi mille metri ho cominciato a scalare il canalone Merkel la parte più ripida immaginate una parete praticamente verticale e alla fine del canalone arrivò mio fratello allora si spalancò una gamma di possibilità che non avevo preso in considerazione a cui non avevo pensato quando Gunther mi raggiunse gli dissi che sarebbe stato molto pericoloso ci confrontammo brevemente e quasi solo con gli sguardi lassù non si parla molto ce la possiamo fare a cui si parla molto pericoloso quando vai a scalare hai una corda che serve a trattenere il tuo compagno in caso di caduta mio fratello sarebbe riuscito a calarsi in doppia ma non era in grado di scendere arrampicando avendo superato velocemente un dislivello di mille metri per raggiungermi era sfinito cominciava ad avere i sintomi del mal d'altitudine aveva deciso di seguirmi probabilmente perché non voleva rinunciare a un passo dalla vetta io ero con i miei fratelli Hubert e Siegfried stavamo passando l'estate in Svizzera ci occupavamo di una mandria di bovini ricordo bene il giorno in cui ricevemmo il telegramma ce lo mandava nostro padre arrivati in cima capii che eravamo nei guai non era sicuro dietro non avevamo nessuno non potevamo ridiscendere la parete Rupal perché Günther avrebbe sicuramente perso qualche appoggio e sarebbe scivolato dovevamo cavarcela da soli siamo scesi fino all'imbocco del canalone Merkel dove la nostra unica speranza era riuscire a chiamare il campo 5 facemmo il primo bivacco a 7800-7900 metri non avevamo quasi nulla per proteggerci ci sedemmo e aspettammo l'alba quando vidi quanto era piccola parete nel canalone Merkel mi spaventai perché pensai che da lì nessuno poteva salire e a noi serviva una corda per scendere a un certo punto avvistammo Kuhn e Scholz ero sicuro che fossero saliti per portarci la corda perché avevano sentito le nostre grida di aiuto non mi passò neanche per la testa che stessero attaccando la cima quando tentarono di raggiungerci capii che non ci sarebbero riusciti dovevamo cavarcela da soli sarebbe stato peggio se avessero tentato di raggiungerci a ogni costo e fossero precipitati mi sono aggrappato a lungo a una fantasia speravo che Gunther non fosse morto che fosse riuscito a scendere fosse scappato da qualche parte mi sembrava possibile visto che era un tipo un po' solitario e potevo ben immaginare che una fuga dalla civiltà fosse una prospettiva attraente per lui dovevamo scendere pensai che potevamo farcela lungo la via salita da Mammery nel 1895 nonostante fossimo in condizioni precarie la discesa del Diamir non si fa certo in un'ora ma nel nostro caso è durata addirittura due giorni non c'è visuale chiara è piena di crepacci sotto un enorme seracco mentre lo aspettavo mi dicevo ci deve essere un modo di aggirare questa parete di ghiaccio siccome non lo vedi arrivare tornai indietro in montagna bisogna mantenere il contatto visivo o almeno essere in grado di udire le grida del compagno è difficile accettare che non fossero né in contatto visivo né avessero la corda che fosse così facile perdersi Nanga Parbat, vengo anch'io grazie veramente grazie è il più bel regalo Günther, Reinhold, sveglia il telegramma diceva Günther è morto Reinhold è sopravvissuto conteneva solo queste due frasi non riuscivamo a capire come puoi perdere tuo fratello quando arrampicavamo sulle Alpi ci dicevamo sempre che non saremmo mai morti in montagna non noi eravamo arroganti ma per noi era così non riuscivamo a capire e mi ritrovai solo ai confini del mondo senza sapere cosa fare all'improvviso il mio miglior compagno di cordata mio fratello il mio complice di avventure estreme da un minuto all'altro non c'era più sentivo di avere una responsabilità dovevo riuscire a tornare a casa per raccontare ai nostri genitori cosa era davvero accaduto è stata dura per lui tornare senza Günther nella nostra famiglia i fratelli maggiori avevano sempre vegliato sui più piccoli penso che papà abbia sempre rimproverato a Reinold di non essere riuscito a riportare a casa nostro fratello mia madre soffriva profondamente ma ha anche condiviso con me il dolore della perdita rimase di fondo in tutta questa storia che poi divenne di dominio pubblico una domanda che cosa è accaduto davvero a Günther? il dubbio di come erano andate veramente le cose rimase anche ai miei fratelli e ai miei genitori è proprio la morte in sé quel senso di vuoto che un lutto ti lascia in qualche modo quando ti tocca da vicino ti fa sembrare la morte così vicina si può dire che è come se ognuno di noi improvvisamente si trovi a confrontarsi duramente con la propria fragilità mamma era una donna molto positiva fu capace di rielaborare la cosa molto prima di noi grazie al suo incrollabile ottimismo che non l'abbandonava mai Reinhold dopo l'incidente su Nanga Parbat cambiò profondamente sapevo solo che volevo abbandonare il mondo civile e vivere la vita che avevamo sempre sognato io e Günther arrampicare in montagna vivere una vita selvaggia, avventurosa questo era il nostro progetto di vita e ora sentivo che era divenuta un'esigenza ancora più forte più determinata grazie a tutti 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 grazie a tutti